Una delle componenti del diabete, una delle caratteristiche del diabete di cui noi ci occupiamo è il diabete nel corso di gravidanza, o meglio del diabete gestazionale, che è una condizione di sviluppo di diabete nell'ambito di una gravidanza di una donna che precedentemente non aveva manifestato nei segni, nei sintomi della patologia. È una condizione che può essere trattata in modo molto efficace, ma richiede un attento monitoraggio proprio perché bisogna evitare che gli eccessi perlicemici nel corso della gravidanza possano condurre il feto a uno sviluppo eccessivo, cioè quella che viene definita una macrosomia e che si definisce con un peso alla nascita maggiore di 4 kg. Questo tipo di anomalia comporta ovviamente delle difficoltà nel corso del parto, ma anche delle alterazioni per il feto stesso e può essere una condizione che può portare la madre a sviluppare successivamente un diabete conclamato. Per tale motivo è opportuno che a tutte le donne che presentano alcuni fattori di rischio venga proposto un carico orale di glucosio alla 24esima settimana, a meno che la glicemia di partenza non sia già superiore a un livello, un cut off di base che consente già di definire questa patologia che è di 92 mg di decilitro. In tal caso non è necessario procedere al carico orale. Successivamente, non appena possibile, ma con dei tempi rapidi in quanto la gravidanza procede velocemente, è necessario presentarsi a una visita diabetologica ed essere seguite con una nutrizione appropriata, che comprende quindi una dieta non soltanto caloricamente ristretta o comunque definita, ma anche dei nutrimenti precisi, come ad esempio è facile dire i supplementi vitaminici, folati, vitamina D, eccetera. Seguire l'attività fisica per quanto questa possa essere fatta e consentita in gravidanza dal parere del ginecologo e con delle visite periodiche che porteranno la donna in gravidanza al parto, al termine, nelle condizioni migliori. Tutto questo fatto in accordo col ginecologo e tenendo conto che purtroppo in gravidanza non è possibile utilizzare oltre alla dieta e all'attività fisica dei farmaci medici, se non l'insulina che qualche volta deve essere utilizzata, ma che poi al momento del parto, nella stragrande maggioranza dei casi, viene sospesa e la partoriente può procedere solo con l'alimentazione normale.